Buonasera e benvenuti a Medicina Amica. Siamo in diretta e questo dà un quid in più alla nostra trasmissione perché ovviamente potete comunicare, potete telefonare e partecipare quindi agli argomenti scelti oggi. Abbiamo un ospite importante che vi presento subito, il dottor Antonio Longo, al quale do il caloroso benvenuto. Grazie davvero per essere qui. Grazie per l'invito. Pensate che viene da Palermo, quindi aereo-treno per essere qui nei nostri studi. Il dottor Longo sicuramente se avete già visto i nostri programmi lo ricordate e molti di voi lo conoscono anche e soprattutto i medici che ci hanno anche telefonato incitandoci a invitarlo nuovamente, cosa che abbiamo fatto come vedete, perché è molto noto nel resto del mondo e soprattutto nel nostro paese per le sue tecniche originali. Vi dico subito, è colon proctologo, esperto in patologie pelviche, ma quello che più importa, ecco vedete intanto la regia sta anticipando qualche fotografia che dimostra come viene molto richiesto a livello internazionale. Professor Longo, vi dicevo, ha ideato delle sue tecniche originali. Noi gli abbiamo chiesto proprio su vostra sollecitazione di tornare questa sera a parlarci, a fare una specie di riassunto in cui ce le illustrerà tutte e parlerà di questi problemi che riguardano alcuni la sfera del nostro intimo proprio. Sono problemi molto seri che possono limitare anche la qualità della vita, per cui devo dire che questa è un'occasione buona e sono veramente orgogliosa di poter presentare questi argomenti e di farvi compagnia in maniera, spero, utile. Allora, professore, abbiamo visto, lei è uno dei chirurghi più citati nei testi, proprio perché ha avuto questa intuizione, diciamo anche un pizzico di genialità tutta italiana, per cui ha problemi abbastanza complicati, lei ha offerto delle soluzioni semplici in un'ottica di chirurgia mininvasiva, quello che cioè ormai tutti si aspettano dalla chirurgia. Quindi, adesso sta arrivando il successo, devo dire, la fame internazionale è convalidata. Beh, quello, da un po' di anni, grazie a Dio, insomma, non mi posso lamentare per quello. Benissimo. Allora, mentre vediamo, continuiamo a vedere, tra parentesi in Cina, e questo mi ero ripromessa di non parlare della brutta malattia che ci sta stravolgendo la vita a tutti quanti, il Covid, però mi viene giusto da chiederle quanto il Covid ha inciso o sta incidendo sulla sua attività, sulla sua professione. Guardi, incide sulla mia attività perché mi occupo prevalentemente di patologie berigne. In questo momento, specialmente qui in Lombardia, c'è l'ordine di seguire soltanto interventi urgenti, e tra queste addirittura non sono inclusi neanche i carcinomi come interventi urgenti che possono essere dilazionati. Però io vorrei fare un'osservazione che potrebbe essere interessante, ed è la seguente. Il virus ovviamente attacca prevalentemente e ha una maggiore virulenza nelle persone con deficit immunitari. L'ansia e lo stress causano una importante diminuzione delle difese immunitarie. Ci sono altre patologie, l'herpes per esempio, che tutti conosciamo, che è una patologia che si manifesta soprattutto nei momenti di ansia e stress. Ora, cercare di limitare in qualche maniera l'ansia nelle persone, di vivere questo momento con maggiore coscienza e soprattutto accettare determinate realtà sarebbe un grossissimo vantaggio, perché ripeto, anche questo fattore deve essere tenuto in estrema considerazione. E poi bisogna ragionare in termini quanto più scientifici possibili, perché mi permetto di dirle, mi scusi se le chiamo col proprio nome, le idiozie che sento da parte dei cosiddetti scienziati e soprattutto dei giornalisti, sono incredibili. Quando dicono oggi abbiamo avuto 40.000 casi, però il numero di tamponi effettuato è diminuito, ne abbiamo fatto di meno. Allora pensano che in Italia ci siano 40.000 nuovi casi, invece non sono 40.000 nuovi casi, bisogna proporzionare il numero di tamponi che si fanno con la percentuale dei positivi in un campione che dovrebbe essere randomizzato e noi sapremmo con maggiore chiarezza quanti pazienti in Italia ci sono affetti da coronavirus o che hanno contratto il virus in maniera sintomatica o che sono sintomatici. E allora bisognerebbe prendere le soluzioni in relazione a dati precisi, invece questo non si fa, è una scienza esatta, l'epidemiologia, ma purtroppo non viene assolutamente applicata. Sì, sì, condivido plenamente e immagino che anche la maggior parte dei nostri telespettatori che sono alquanto critici su alcune posizioni, devo dire che si rendano conto che c'è veramente un po' di confusione che ha generato anche una sorta di terrorismo davvero. Ma è l'insicurezza, l'insicurezza che si causa nelle persone perché non sanno a chi credere, a cosa credere, cosa fare, cosa non fare, quali sono i rimedi realmente efficaci e quali invece sono delle sciocchezze assurde. È vero. Guardi professore, lei ha colto proprio nel segno perché confermo e poi chiudiamo e passiamo invece ai nostri argomenti pragmatici, questi sì che riusciamo a risolvere, che lei riesce a risolvere. Volevo dire che proprio oggi parlavo con mia figlia al telefono che si era appena conclusa una conferenza stampa con un ASL, non vi dirò quale, ma è ovviamente del nostro territorio e a precisa domanda quantificare i casi di marzo e ovviamente aprire, quindi la prima ondata, distinguendoli da quelli della cosiddetta seconda, non sono in grado di farlo perché è tutto mescolato, non si riesce più a capire quali sono i nuovi positivi, quelli che hanno rifatto il tampone, quelli che sono usciti dalla quarantena. Non vi dico, la materia è molto complicata, però c'è una grande incapacità di chi deve gestire queste cose. Detto questo, pazienza. Prendiamola con un po' di filosofia, se non c'è un dramma in casa io vi auguro proprio di no, che riusciate a passare anche la malattia in maniera abbastanza semplice, ecco, perché non tutti devono finire in ospedale e non tutti, si spera, finiscano in terapia intensiva. Detto questo, vorrei leggere con voi il titolo. È molto complesso perché abbiamo, come preannunciato, raggruppato tante patologie, tanti casi che richiedono l'intervento appunto di un esperto di organi pelvici, e un colon proctologo come il nostro ospite. E allora vediamo, emorroidi, prolasso genitale, stipsi, reflusso gastroesofageo, che sembra un po' esulare dalle sue competenze, ma vedremo che invece è pertinente, le tecniche originali di Longo. Longo è il professor Antonio Longo appunto, che ha avuto questo merito. Non solo tecniche, perché poi come vedremo con l'aiuto dei filmati, queste metodiche chirurgiche richiedono anche una strumentazione assai precisa, piccola, sofisticata, di grande efficacia. E anche questo lei ha brevettato, ha messo a punto con l'aiuto di aziende del settore. Sì, l'ho brevettato, i miei brevetti sono stati acquisiti dalla Johnson & Johnson negli Stati Uniti, che è quella che produce gli strumenti da me inventati. Bene, quindi in tutto il mondo le persone che soffrono di queste patologie elencate, magari anche a loro insaputa, potrebbero ringraziare il professor Longo, perché ha minimizzato degli interventi come quello che andremo a affrontare per primo, quello degli emorroidi, noti per essere almeno in passato con le tecniche tradizionali molto, ma veramente molto dolorosi. Ecco, parliamo di emorroidi, è d'accordo professore? Apriamo con questo. Parliamo di emorroidi e io vorrei sintetizzare qualche concetto, perché mi avete invitato tante volte, ho avuto la possibilità di notare che avete un pubblico molto attento e che le persone, quando i concetti sono esplicati in maniera diciamo semplice e quando in realtà corrispondono alla realtà, riescono a capire benissimo i concetti e questo mi fa molto piacere. Allora, a proposito delle emorroidi, vorrei sintetizzare dicendo che io sono un chirurgo generale, adesso sono nato come chirurgo generale, l'intervento che odiavo fare era l'emorroidechitomia, cioè l'asportazione dell'emorroidi, perché era l'intervento più doloroso che si praticava, che richiedeva più di un mese per la guarigione e se noi vediamo per esempio una figura del genere, possiamo vedere come tre ferite nell'ano, che è la regione cutanea più sensibile di tutto il corpo, quelle ferite che dolore potevano provocare nei pazienti e inoltre al dolore anche le complicanze, quali il sanguinamento, la stenosi, l'incontinenza, perché dico l'incontinenza? Perché noi usiamo dire o le emorroidi, tutti abbiamo le emorroidi e sono ed è assolutamente importante quando possibile conservarle, vede questa è un asteno sul restringimento del canale anale dopo l'emorroidechitomia, quella che hanno inquadrato in questo momento. Ora, se noi vediamo per esempio questa immagine in cui si vede il retto, in basso sono disegnate le emorroidi interne e le emorroidi esterne. A che cosa servono queste emorroidi? È importante saperlo. Quindi se vediamo una immagine, queste emorroidi come vede perfezionano la continenza rettale, cioè si incastrano, sono iperirrorate perché hanno molte arterie e molte vene, questo consente a loro di gonfiarsi e gonfiarsi rapidamente, si incastrano tra di loro e perfezionano la continenza rettale. Quindi perdere le emorroidi, non avere le emorroidi non è assolutamente un vantaggio. Se riusciamo a conservarla anatomicamente e a mantenere loro il ruolo fisiologico che hanno, è certamente un vantaggio. Ora, prima si faceva, come le dicevo, la emorroidectomia. Allora mi sono messo a studiare questo problema e che cosa ho scoperto? Che le emorroidi sono sempre associate a un prolasso rettale interno, cioè il retto che scende. O scende la sola mucosa, raramente, o scende tutto il retto. Questo, siccome ho notato che esiste il prolasso senza emorroidi, ma non esiste, non esiste, diciamo, emorroidi senza prolasso, allora la causa del prolasso emorroidario, cioè della fuoriuscita dell'emorroidi, che è quella l'unica patologia, non è il sanguinamento, perché il sanguinamento può avere tante cause. Questo causa l'emorroidi. Inizialmente, se vediamo lì un'immagine, come vede, qui in questo caso abbiamo un prolasso interno del retto che ostruisce la defecazione, ostruisce la defecazione, però le emorroidi stanno al proprio posto. Successivamente succede che questo prolasso tenda a spingere verso l'esterno le emorroidi che prolassano. E allora, la domanda è questa, vediamo un po' le cose. Delle volte le emorroidi restano sempre all'esterno, cioè non rientrano, perché sono classificati in grado. Secondo grado, quando rientrano da solo, terzo grado quando bisogna che si spingano all'interno, quarto grado quando restano sempre all'esterno. Quando restano sempre all'esterno è un problema, perché conferma il problema che dicevo io della continenza. E possono dare anche il terzo grado, il secondo grado, questa complicanza, vede, questo è uno strangolamento emorroidario con edema e il riconfiamento che è una complicanza molto dolorosa, questa addirittura la necrosi delle emorroidi. Quindi non bisogna mai arrivare a questo punto. E quello che dicevo io è questo, che in questi casi i pazienti, se vediamo anche un'altra immagine, perdono praticamente sempre il muco. Quello è l'altro dato importante. È perché dico che il prolasso è la prima causa. Delle volte abbiamo un prolasso emorroidario importante con un modesto prolasso rettale interno. Poi abbiamo piccolo prolassino emorroidario con un prolasso rettale invece a tutto spessore. Se noi visitiamo il paziente o la paziente in decubito laterale e vediamo solo l'emorroide, allora diciamo guardi la possiamo escire, la tagliamo con questo, facciamola con laser, la facciamo con la scleroterapia. Tutte cose che dovrebbero essere a mio giudizio assolutamente abbandonate. Perché la fisiopatologia dell'emorroide ormai è assolutamente chiara. Il fatto del prolasso emorroidario spiega un altro fenomeno che prima si diceva però che gli emorroidi sono stati provocati dalla stitichezza. Dalla stitichezza, infatti stavo per chiedergli. Questo invece cosa spiega? Che il prolasso rettale interno prima causa la stipsi in molti casi, poi questa stipsi con gli sforzi. Praticamente il prolasso emorroidario fuoriesce assieme delle volte alla mucosa rettale, anzi quasi sempre assieme alla mucosa rettale, si libera il canale anale e il paziente paradossalmente evacua un po' più agevolmente. Facilmente sì. Se vede in questa immagine qui, in alcuni casi all'inizio il paziente ha la sensazione della cosiddetta incompleta evacuazione. Scende il perineo, il paziente si sforza enormemente, fuoriescono una parte di feci, però resta un residuo. In altri casi invece è completamente occluso. Il fatto importante è che nelle donne soprattutto si forma una sacca anteriormente che tenta a spingere la vagina in avanti e questo è chiamato rettogel, che può causare altri disturbi, diciamo aggrava la sindrome della vostruita defecazione. Questo rettogel, ecco vedete qua completamente ostruito, lo sforzo nella pelve per poter evacuare, ma ci sono delle immagini reali che eventualmente potremmo vedere. Come lo possiamo determinare questo? con un semplicissimo esame radiografico che si chiama Reiches Cine Defecografia. Si mette il pasto baritato nel retto, vede questa sacca in avanti, questa spinge la vagina in avanti e questo è il prolasso rettale che entra e va a occludere il canale anale impedendo l'evacuazione. Anche la si spinge in avanti e questo può causare un prolasso anche della vescica, dell'utero e così via. Questi organi sono tutti strettamente correlati e ci vuole un unico specialista che tratta tutte queste patologie, perché altrimenti le pazienti, come succede spesso, subiscono tanti interventi da più specialisti perché il proctologo si occupa del retto, il ginecologo della vagina e dell'utero e l'urologo della vescica. Invece le interconnessioni anatomiche e funzionali sono assolutamente importanti e ogni specialista ci vuole il pelvi perineologo che deve conoscere l'anatomia, la fisiologia, la fisiopatologia e tutti e tre gli organi per avere un trattamento razionale. Nel corso della trasmissione poi parleremo anche proprio di alcuni problemi nati dal fatto che magari interventi fatti da ginecologi non tengono in conto il resto. Tenga presente, questo è il rettocele che è una patologia primaria del retto, come vede mettendo un dito nel retto questa sacca in vagina i ginecologi la trattano a tutt'oggi alcuno, incidendo la vagina e mettendo una mesh, praticamente una pezza diciamo tra vagina e retto, spingono il prolasso all'interno che ostruisce maggiormente la defecazione e quindi levano soltanto la pallina in vagina ma non curano la patologia originaria perché esportando il retto adeguatamente vedremo che c'è anche un effetto benefico non solo sull'ostelità defecazione ma anche anatomica sul perineo disceso, questo vede gli eccessivi sforzi per evacuare cosa comportano, veda un poco questa è la vescica a sinistra, come si abbassa e come il retto tente proprio a prolassare e anche l'utero. Eh sì, si porta il tutto dietro proprio. Sì, appunto, è lo sforzo dell'evacuazione che è una sollicitazione continua su tutti gli organi pelvici. I ginecologi pensano che sia il parto la maggiore incidenza per quanto riguarda il parto, il parto ha certamente una sua importanza e io dico soprattutto il parto stimolato che si dovrebbe per quanto possibile evitare. Perché i dolori sono più violenti ma il tutto avviene più velocemente? No, non solo avviene più velocemente, lo stimolo aumenta le contrazioni uteline ma non dilata il collo, quindi poi sono costretto a spingere e quindi possono rompere alcuni legamenti di supporto dell'utero e appunto per questo è una cosa che non condivido. E quindi abbiamo liquidato già così il problema della stitichezza, professore? No. Non è dovuto a altri elementi? Io lo so. O c'è una causa meccanica solo? Allora, per me, diciamo, la stips nel 90% dei casi e forse più è dovuta a un prolasso rettale interno e un rettocele. Poi ci sono altre cause che vengono chiamate in causa. Non possiamo in questa serata proprio magari approfondire tutto, però insomma diciamo che spesso all'origine di una stitichezza che si presenta molto ostinata ci potrebbe essere proprio questo problema meccanico, ecco, un'ostruzione meccanica. Abbiamo visto che questo prolasso... Se vediamo delle immagini, per esempio, su come condurre, come eliminare questo prolasso... Veniamo alla sua tecnica, quindi? Sì, la voglio dimostrare prima, questa e poi parleremo di altre cause di stitichezza, magari se lei vuole. Se partiamo con questa immagine, lei vede questo prolasso interno del retto e quel prolasso emorroidario. Domanda, cosa facciamo noi se asportiamo l'emorroide in questo paziente? Lasciamo quel prolasso interno, quel prolasso rettale e quindi l'ostruita defecazione, restringiamo il canale annale. Cosa facciamo con la scleroterapia? Cosa facciamo con un aldoppler che lega soltanto l'emorroide, lasciando questo prolasso interno? Allora, credo e penso che qualunque persona di normale intelligenza può capire che se noi abbiamo un effetto e una causa, la cosa più intelligente è curare la causa, non un effetto. Allora, il prolasso emorroidario è un effetto del prolasso rettale interno che comporta altre patologie e abbiamo visto in primis l'ostruita defecazione. Allora, con un'unica tecnica possiamo risolvere i due problemi e risolvere la causa, non un effetto. E ripeto, salvaguardare l'emorroide che è importante. Questo è il primo strumento che ho ideato per brevettato, è tutto un kit e noi possiamo vedere come si esegue la tecnica. Vede, è molto semplice, con questo strumento, prima si valuta, si dilata il canale annale con questo strumento, si fa una sottura circonferenziale che si chiama borsa di tabacco e questo strumento che ha un bicchiere, reseca e cuce contemporaneamente il prolasso con delle clipse di titanio assolutamente inerte. Lei vede il pre e il posto operativo di questo paziente. Del prolasso prima dell'intervento, dopo l'intervento, ma c'è anche il fatto interno che non ha più il prolasso interno del retto. Questa è valida soltanto, vede qua, compariamo la tecnica per esempio, può vedere alcuni miei pazienti, prima e dopo l'intervento, come restituiamo un'anatomia normale. Immaginiamoci invece l'emorroidectomia che restringe il canale annale e comporta un sacco di complicanze. Allora dico, no, io faccio con l'igascio, la faccio con il laser, la faccio con questo, ma l'esito sono sempre tre cicatrici, tre ferite nell'ano che comportano dolore e ovviamente un lungo tempo di guarigione. Il posto operatorio da tenere in considerazione. Siccome i prolasso nella maggior parte però sono di tutto il retto, non solo della mucosa, quindi sono importanti, allora vede c'è anche la cosiddetta procedenza, c'è un prolasso rettale esterno, questo è piccolino ma ci sono ovviamente i prolasso rettali molto importanti, vede che valutazione di prolasso in questo caso o nell'altro. In questo caso la tecnica è la star cosiddetta, cioè vede qua in questo caso paziente con l'emorroide e con questo prolasso interno, figuriamoci a sportare l'emorroide cosa comporterebbe, quale sarebbe il vantaggio o questo paziente con questa procedenza. La tecnica star, vede, si può fare o con due PPH si chiamano, due quegli strumenti che si riesce a prima anteriormente e poi posteriormente, ma ora più recentemente vedo il pre e post operatorio, quanto è importante e qual è l'esito e c'è un altro strumento, dalla prossima, questo qua che si chiama trastar, di questo esistono più misure per fare diversi interventi, si fa una resezione circonferenziale del prolasso rettale, di qualunque sia la dimensione, anche se è leggermente prolassato all'esterno e questo è molto importante, si vede il pre e post operatorio, si fa una resezione circonferenziale e vede che il prolasso riusciamo ad esportare anche più grosso di quello. E quindi questa è una tecnica, qual è il vantaggio? Che è assolutamente indolore o quasi indolore, perché la sutura è all'interno del retto dove non ci sono recettore per certi tipi di dolore. I pazienti comunque possono avere nei primi giorni l'urgenza di andare in bagno perché il cervello avverte diciamo molto più di prima lo stimolo e quindi non è abituato a sentire lo stimolo e quindi ti fa correre in bagno e poi dopo qualche giorno insomma tutto sistema, ci possono essere tutte le complicanze chirurgiche, che ci può essere qualche sanguinamento post operatorio, diciamo non è tutte le tecniche che hanno, ma la percentuale è assolutamente minima, irrisoria. Vede per esempio in questo caso questa paziente, il prolasso emorroidario ed il rettogele prima dell'intervento, dopo l'intervento non ha più nel rettogele, nel prolasso emorroidario. Ma il fatto che le volevo dire, ed è molto importante, è questo. Veda questo è il perineo, come è sceso, cioè come è sceso in basso il perineo. Dopo la resezione del prolasso, se avviamo l'immagine, veda come è risalito il perineo in alto e abbiamo corretto il prolasso emorroidario, il rettogele, il prolasso rettano e è fatto risalire il perineo. Quale altra tecnica potrebbe ottenere questo effetto? Questo comunque significa pure che il perineo iperdiscendente è sempre secondario al prolasso del retto, vedremo anche dell'utero, della vescica e della vagina. Certo, professore guardi, è volato questo primo tempo insieme, ci fermiamo giusto un minuto per la pausa pubblicitaria, poi riprendiamo. Mi pare che l'utilizzo sia dei filmati molto chiari, sono esplicativi veramente al massimo e lo so che li ha fatti lei proprio, una sua produzione, quindi complimenti anche questo talento di lavorare con le immagini, sia le immagini reali degli interventi, anche se magari qualcuno dirà, oh mamma mia che scene che vediamo, però è necessario che il professore ci mostri questo perché capite la differenza tra una tecnica e l'altra e soprattutto il valore di un intervento che risolva realmente il problema. E soprattutto non avere l'ansia dell'intervento ma l'ansia di starsi in certe condizioni, perché queste sono patologie evolutive che comportano, vedremo ci sono delle patologie associate, ci sono delle patologie che mantenendo un prolasso rettale si possono sviluppare. Va bene, allora vi invito a telefonare se avete problemi che sono stati poi citati nel titolo e a seguirci subito dopo la pausa pubblicitaria, siamo di nuovo qui in diretta. Bene, nella prima parte della nostra trasmissione dedicata a emorodi, prolasso genitale stipsi, reflusso gastroesofageo, attraverso lo studio, l'analisi delle tecniche originali del dottor Antonio Longo che è il nostro ospite oggi, abbiamo imparato che l'emorodi, questo problema molto diffuso e che purtroppo lascia spesso insoddisfatti anche dopo gli interventi, quelli tradizionali che abbiamo visto ma anche quelli cosiddetti all'avanguardia, innovativi, in realtà sono, mi scusi, io non sono né medico né chirurgo, però mi ha dato l'impressione dalla sua spiegazione molto efficace che siano quasi dei pagliativi proprio, che aprono la strada non solo alle recidive, magari anche all'aggravamento di altri problemi, giusto perché non vanno all'origine, alla causa vera, mentre la tecnica STAR che lei ci stava illustrando tanto bene con le immagini filmati, va all'origine del problema, che come lei ci spiegava giustamente è sempre originato da un prolasso rettale, più o meno grave, giusto? Sì, il problema è che i pazienti hanno molto terrore dell'intervento chirurgico, siccome la patologia è molto diffusa, ci sono, mi permetto di dire, molti sciacalli che coscientemente sfruttano quest'ansia dei pazienti e questa paura per proporre interventi assolutamente inutili, inefficaci o che non andavano fatti, che non c'è nessuna indicazione, ma questo diciamo è purtroppo una cultura che bisognerebbe curare alla base. Infatti, allora ritorniamo alle nostre immagini e ritorniamo a parlare appunto della tecnica della STAR, ma dobbiamo analizzare un pochino anche il discorso del prolasso del retto, il prolasso interno in sostanza, da che cosa viene generalmente originato, quali sono le cause di questo prolasso? Ecco, questa è una domanda molto importante e le dico che anche in questo periodo acquista un'importanza maggiore. Diciamo che ci sono dei prolasso rettale congeniti, nel senso che ci sono bambini che nascono con un prolasso rettale addirittura esterno e quindi possono essere congeniti i prolasso, ma la seragante maggioranza dei prolasso è acquisita e la causa maggiore del prolasso rettale è la seguente e spero di essere capito. Noi abbiamo un sistema nervoso che si chiama sistema nervoso autonomo, che è diviso in tue branche, cioè praticamente non dipende dalla nostra volontà, ecco questo lo dobbiamo fare chiaramente, che è un sistema nervoso parasimpatico e un sistema nervoso simpatico. Il sistema nervoso parasimpatico si attiva quando noi siamo rilassati e tranquilli e che cosa provoca? Una stimolazione della digestione e un rilasciamento degli sfinteri anali per poter evacuare al momento dell'evacuazione. Quando siamo sotto stress, ansiosi e così via, si attiva prevalentemente il sistema nervoso simpatico. Che ha questo effetto? Un rallentamento della digestione della peristarsi intestinale e una contrazione degli sfinteri anali. Cioè gli sfinteri anali non si aprono a sufficienza o non si aprono affatto al momento dell'evacuazione. Per cui i pazienti spesso hanno una difficoltà a evacuare, ma hanno soprattutto un'evacuazione frazionata. Mi spiego, hanno più evacuazione al giorno perché non riescono a svuotare il retto con un'unica evacuazione perché appena diminuisce la pressione endorettale immediatamente si chiude lo sfinterio e quindi resta il retto pieno e quindi devono andare più volte a evacuare durante il giorno. La patologia sorge appunto, non aprendosi lo sfinterio, non dilatantosi lo sfinterio quando arrivano le feici. Il paziente si sforza ovviamente per cercare di vincere questa presenza. Sforzandosi tende a distendere e a rompere le tuniche muscolari del retto che diventa più lungo, si afflosce nelle donne come abbiamo visto forma il retto gel. Quindi la dissinergia pelvica, l'ansia e lo stress giocano un ruolo molto importante. Di fatti queste patologie sono molto più diffuse nei paesi occidentali dove l'ansia e lo stress diciamo ovviamente la fanno un po' da padrone rispetto ad altri paesi. E questa è una delle cause importanti. Questo ipertono anale può causare anche la ragada anale che è una ferita del canale anale che può essere curata medicalmente in fase acuta invece poi richiede un'elettrocoagulazione nel momento in cui diventa cronica e quindi non c'è più possibilità di epiterizzazione. E quindi questo diciamo è a mio parere una causa assolutamente importante. Poi vediamo che ci sono anche altri tipi di prolasso rettale. Bene, io ricordo in passato che lei diceva che per questi pazienti che in modo particolare non riescono ad avere un, diciamo, hanno questo rapporto ansiogeno e quindi gli sfinteri non si comportano nel modo dovuto. Negli sfinteri è un altro muscolo che si chiama pubbo rettale. Cioè il muscolo pubbo rettale è il muscolo che dà un ancolo tra retto e canale anale che forma un ancolo quindi perfeziona la continenza. Questo muscolo non si rilascia. Delle volte siccome chiude anche l'imbocco vaginale si possono avere associate anche difficoltà nei rapporti sessuali. Ma la dissinergia pelvica non interessa soltanto il retto, interessa anche la vescica e possono avere una vescica iperattiva o una stranguria. C'è una difficoltà proprio perché non si rilascia il detrusore della vescica e quindi hanno difficoltà a urinare e quindi si associano tutti questi disturbi. Ritorneremo poi su questo argomento a proposito magari del reflusso gastroesofageo. Però voglio dire che molti pazienti quando gli si propone di prendere un angiolitico al bisogno, pensano che il medico lo sta giudicando un pazzo e quindi si rifiutano anche di prendere l'angiolitico. Ora l'ansia non è delle persone, non significa essere pazzo o essere stressato. Si può avere bisogno perché le circostanze della vita possono portare ad essere ansioso e essere stressato. Allora certi farmaci possono avere non prese per tutta la vita magari, ma nei momenti di necessità possono certamente aiutare. Molto bene, le va di parlare ancora di stipsi, visto che mi aveva promesso che ci saremmo ritornati. Quello che volevo chiederle è in relazione anche al fatto, sentiamo parlare spesso di tempo di transito rallentato, delle feci, ma anche di colon molto lungo. Sì. Giusto? Può essere? E' questa la causa? Non voglio irritarla più di tanto. No, no, guardi, il tempo di transito intestinale. Io le faccio una domanda. Se io chiedo a lei quanto è alta, lei mi dice quanto è alta e se glielo chiedo domani mi dice ovviamente la stessa altezza. Beh, sì, si spera di non diventare più piccola. Il tempo di transito intestinale è un tempo assolutamente variabile nella stessa persona, che può dipendere dall'alimentazione, dallo stato, dal movimento, che può dipendere dallo stato psicologico. Quindi il tempo di transito intestinale è un esame, a mio parere, perfettamente inutile. Quindi non è un dato obiettivo. Inoltre le dico, quando c'è il retto pieno, cioè quando c'è il retto pieno perché il paziente non riesce a evacuare, perché ha una sindrome da ostruita defecazione, il retto manda un segnale al cervello per dire rallentiamo, perché qui è pieno, come in autostrada, viene esattamente come in autostrada. Quindi rallenta il tempo transito intestinale. Ma non è la patologia primaria, può essere secondaria all'ostruita defecazione del prolasio. Quindi è un esame che non serve a niente perché serve solo a vendere e a rovinare tanta gente con i lassativi. Non c'è nessuno studio che dimostra che c'è una correlazione tra la stitichezza e la lunghezza dell'intestino. Per cui sono state esportate chilometri e chilometri di intestino in maniera assolutamente inutile e gratuita, rovinando un sacco di persone. E ancora c'è qualcuno che continua a farlo, purtroppo devo dirlo. Ho capito. Poi c'era l'altra perola. Il professore però, che cosa mi dice a proposito del colon irritabile? Perché ci sono... Il colon irritabile... Ah vede, guardi la slide, ha anticipato la mia domanda, perché converrà che ci sono persone che alternano stipsi a diarrea. Sì, infatti quando c'è la sindrome da ostilità a defecazione, le feci, il resto è una ampolla rettale, poi fermentano e diventano diarroiche. Si alterna la diarrea con la stipsi, normalmente. Quindi mi contesta anche... La sindrome del colon irritabile. Se lei chiede a 50 gastroenterologi la definizione di colon irritabile, le danno 50 definizioni diverse. L'unica cosa del colon irritabile che le possa assicurare è che è una diagnosi che a me personalmente irrita moltissimo. Eh, lo sapevo. Cioè, perché è proprio una patologia. Eppure sa quante persone dichiarano di avere... Lo so, lo so, ma fanno pubblicità in televisione, questo, quell'altro, quindi le persone... Però io ho la domanda, che significa che si irrita il colon? Qualcuno riesce a concepire nella propria mente che si irrita il colon? Che significa? Non so, magari è un'infiammazione. Ma se è un'infiammazione, allora le infiammazioni del colon non sono colon irritabili. Sono le colite che possono essere croniche o possono essere acute e quindi è diagnosticabile. Con una coloscopia si vede la flogosi e l'infiammazione. Questa irritabilità, le ripeto, è una diagnosi di comodo. Quanto non si capisce che cosa è il paziente o non si sa fare una diagnosi corretta, si dice che lei è il colon irritabile. Ma ci vanno anche i pazienti da soli. Quei poveri disgraziati che vivono in quella condizione? Devono farsi visitare, ci devono farsi visitare una persona esperta, eventualmente seguire una defecografia, come abbiamo detto, e le assicuro che il 90%, il 95% dei casi hanno un proazzo letale che ostruisce la defecazione e che le crea il problema. O hanno una disinergia pelvica, il motivo per cui va curata l'ansia e lo stress. Il fatto importante invece, non è tanto il tempo del transito intestinale, è fare una radiografia del colon, perché se il colon è disteso invece, diventa un magazzino e non più una via di transito, allora quello è patologico. Ma quello avviene in quali patologie prevalentemente? Avviene nel Parkinson, anche i farmaci che prendono i Parkinsoniani, nell'Alzheimer, in altre patologie metaboliche, diciamo in alcune vasculopatie, quello può succedere, ma sono una percentuale assolutamente irrisoria rispetto alla stipesi dovuta al prolasso rettale e alla disinergia pelvica. Certo, ovviamente Dottor Longo saprà anche lei che tra, diciamo, non farmaci, ma i prodotti da banco più venduti ci sono i lassativi, anche se continuiamo a parlare verranno venduti continuamente. Su questo non c'è dubbio, perché in Italia forse lei non sa che si vendono 500 milioni all'anno di lassative soltanto nelle farmacie, poi ci sono le erboristerie che fanno un business più o meno equivalente, quindi noi spendiamo un miliardo all'anno. Le persone credono… Non avevo mai pensato di quantificare, però so che è uno dei prodotti più venduti. No, ma bisogna sapere che gli effetti delle lassative, cioè perché, ecco, guardi questo colon a destra di colore nero, questa è la melanosi del colon, cioè il colon diventa di colore nero, la mucosa diventa nera quando c'è un abuso di lassative, ma inoltre il lassativo cosa comporta? Comporta un mancato assorbimento di alcuni elettroliti, il sodio, il potassio e soprattutto il magnesio e molte persone che assumono lassative in continuazione soffrono di sindrome depressiva da carenza di magnesio. Magnesio, sì, che influisce molto sull'umore, sulla stabilità. Non solo, si disidratano e le persone anziane possono andare incontro a cosiddette spessatio sanguinis, cioè il sangue più concentrato e quindi più esposte alle trombosi. Caspita, quindi non scherziamo col fuoco? Non ci scherzano, ma nessuno le dice queste cose perché è un bisnis enorme. Senta, quanti i cosiddetti lassativi osmotici che adesso vanno tanto di modo? Ma sono la stessa cosa, hanno sempre la stessa meccanica. Ma perché questo nero? Ma io dico che temporaneamente in alcune circostanze possono essere anche presi i lassativi, temporaneamente, ma soprattutto quelli che accelerano il transito intestinal, che agiscono sulla muscolatura del colon, non facciamo pubblicità, magari non diciamo qua, però quelli possono essere temporaneamente assunti in alcune circostanze, pazienti allettati, pazienti che non possono muoversi per qualche particolare patologia, oppure, ripeto, i parkinsoniani, i diabetici cronici che possono avere delle vasculopatie e così via, su quello posso anche concordare assieme a una correttissima alimentazione, ma in altri no. Ma il nero da cosa è dovuto? La necrosi da cosa è dovuto? Allora, non è una necrosi, è una melanosi. È una melanosi, una melanosi, praticamente questo colorante naturale. Ma è solo brutto da vedersi o in pratica? No, ci sono alcune patologie ovviamente correlate, perché non può essere, anche se vengono impatti sottaggiuti. Perché le mucose devono essere rose, no? Le mucose sono, anche se, per esempio, l'assorbimento, quando c'è una melanosi di acqua e di elettrolite è ancora più limitato. Ma è che non è una cosa... Non si è voluto dire, ma io sospetto che ci sia una certa correlazione anche con i tumori e le patologie infiammatorie croniche del colon, ma siccome il business è enorme, se uno si azzarda pubblicare un articolo, se io scrivo un articolo e dico che la melanosi, per esempio, predispone al carcinoma, nessuna rivista me lo accetta perché sono sponsorizzata alla casa farmaceutica che hanno miliardi e miliardi da vendere di lassativi. Mi dispiace, ma a me piace, mi dispiace, ma purtroppo ho l'abitudine di essere molto chiaro. Vabbè, se lo può permettere, visto che si è conquistato una certa fama internazionale. Professor Longo, vi è una correlazione tra la stipsi e la diverticolosi? Di cui si parla molto anche... Allora, io personalmente ho fatto uno studio a Vienna, dove ovviamente ho lavorato per 20 anni e la incidenza della diverticolosi del colon è molto correlata con la sindrome da costruita defecazione. Perché? Quando c'è un'ostruzione fecale, le feci fermentano, formano gas, si forma il meteorismo e c'è una distensione del colon, cosa che porta non solo alla formazione dei diverticoli, ma soprattutto perché poi la diverticolosi è molto diffusa dopo i 60 anni, insomma, come vede che nella popolazione dopo i 60 anni, insomma, è circa il 60% l'incidenza della diverticolosi. E quindi non bisogna curare la diverticolosi. Per esempio quella enorme idiozia di dare un antibiotico mensilmente per i pazienti con la diverticolosi, cosa succede? C'è un solo studio fatto 60 anni fa che diceva, che aveva proposto questa cosa degli antibiotici. Si distrugge la flora batterica intestinale normale e quindi si deve ricreare un'altra nuova flora batterica che non sappiamo mai che tipo di flora batterica, diciamo, si riconfeziona. Quindi prendere l'antibiotico mensilmente è figurato il 60% della popolazione che deve prendere una settimana al mese un antibiotico, che è idiozia questa, eppure si continua a fare, mi dispiace dirlo. Invece è importante curare lo studio di defecazione perché c'è una maggiore incidenza non solo della diverticolosi ma anche delle complicanze della diverticolosi. E quali sono le complicanze più importanti della diverticolosi? Ci sono quelle acute e quelle, diciamo, croniche. Ci può essere, ad esempio, come acuto, una flocos, un'infiammazione, ci può essere una perforazione, ma ci possono essere dei restringimenti, una stenosi progressiva. Allora, in quel caso, l'intervento chirurgico va programmato. Negli altri casi, invece, fallita la terapia medico-conservativa, diciamo, bisogna ricorrere alla terapia chirurgica. E c'è un tipo di alimentazione anche che bisogna adottare? Ma per esempio dicono di non mangiare le fibre, no? L'altra idiozia enorme. Ah, non sapevo volesse contestare tutto. No, no, è un'idiozia enorme perché il paziente con la diverticolosi deve evacuare normalmente. Se mancano le fibre, se mancano le verdure, se mancano i passati di verdure, allora, se il paziente, mancando questo tipo di alimentazione, si seleziona una flora batterica patogena, che sono quelle che possono causare l'infiammazione e anche la perforazione, allora vi assicuro che quando avete la diverticolosi potete benissimo mangiare le fibre, le verdure, la frutta, anzi dovete mangiare a maggior ragione. Ma pensa, abbiamo ribaltato tutti i concetti più... Sì, ma bisogna, perché c'è una medicina che guarda l'interesse del paziente, una medicina che guarda l'interesse dell'azienda farmaceutica o di altro, capisci? Bene, no, quindi non bisogna sottovalutare la diverticolosi, ma nello stesso tempo, quindi farsi controllare, ma non cadere appunto nella doppia trappola... Sì, se sai che c'è una diverticolosi... E praticamente dopo i 60 anni, buona parte uno su due ce l'ha? Sì. No? Sì, sì. È un po' connaturato nell'invecchiamato? Sì, può essere diffusa o può essere qualche diverticolo, la gravità poi è variabile. E uno come se ne accorge, mi scusi? Con la coloscopia, o anche con la coloscopia virtuale. Ma non è che tipo di disturbi si avvertono, cioè uno non è che... No, no, può essere più o meno, è quasi sempre asintomatica la diverticolosi. Ah, capito, quindi si scopre in questo caso casualmente. Però può succedere se uno ha una perforazione all'improvviso, se ne accorge per quello, o ha un'infiammazione, per esempio un attacco di diarrea o di occlusione intestinale, allora può essere una complicanza della diverticolosi. Meteorismo colico diffuso? Infatti il meteorismo, cioè il gonfiore della pancia, appunto può essere dovuto all'ostilità di fecazione, che può essere segmentario prevalentemente nel sigma, nella parte bassa, oppure diffuso, diciamo, in tutto il colon. E qui, quindi la causa per cui la diverticolosi prevalentemente è nel sigma, e sono molto meno i casi in cui è diffusa in tutto il colon la diverticolosi. Ho capito. Professore, volevo chiederle, se ce la facciamo prima della pubblicità, mancano circa 5 minuti, ormai mi hanno messo un orologione di studio per non farmi sforare, il prolasso, mi scusi, rettale interno, quello di cui abbiamo parlato, sinora abbiamo visto molti esempi, può sempre essere curato con quella sua tecnica, quella che ci ha mostrato, la STAR? Ecco, io la ringrazio per questa domanda, perché mi dà la possibilità di introdurre un argomento assolutamente importante, e mi farebbe piacere se ci fossero tanti medici anche a seguirci per alcune cose. Un po' ci seguono, un po' di medici ci sono. Sì, mi farebbe piacere. Allora, guardi, io ho portato questa immagine perché supponevo una cosa del genere. Questo è un prolasso rettale interno, guardi, si vede che c'è il retto che tenta a fuoriuscire. In questa paziente, se io spingo con una spatola la vagina verso l'alto, guarda che succede, scompare il prolasso rettale. Guardi questo, una paziente con prolasso rettale esterno, spingo la vagina verso l'alto e scompare il prolasso rettale. Allora, ci sono prolassi rettali primari, in cui è solo il retto prolassato, e prolassi rettali invece associati al prolasso utero, vaginale o anche della vescica. Allora, in questi casi, il trattamento non può essere la recessione del prolasso interno, perché noi tireremmo in giù la vagina e la fisseremmo in basso, oltre a combinare qualche pasticcio perché normalmente è associato un'enterocela. E alla stessa maniera qui, non possiamo fare che il procretologo asporti il prolasso rettale, il ginecologo, il prolasso dell'utero e magari l'urologo il prolasso della vescica. Necessita un solo intervento per questi pazienti, perché un'unica patologia deve essere considerata un'unica patologia e ci vuole uno specialista che riesca a integrare queste conoscenze e quindi aiutare a fare delle tecniche che siano appropriate e sottoporre le pazienti una sola volta all'intervento e a fare un intervento più appropriato possibile. E ci vuole la sua tecnica quindi, quella ideata da lei. Vede questo prolasso pelvico completo, qui è molto più chiaro, in cui si vede prolassato la vagina, la vescica e il retto, la vescica e il retto, prolasso esterno. Cioè questa associazione c'è sempre perché ho dimostrato una cosa molto importante che addirittura su 615 donne con prolasso genitale abbiamo fatto la pelvigrafia dinamica e abbiamo dimostrato che nel 100% dei casi c'è associato un prolasso rettale. Con le tecniche attuali dei ginecologi il prolasso rettale non lo correggono mai. Persistente il prolasso rettale che succede? Che i pazienti hanno lo sforzo per l'evacuazione e quindi c'è un'alta incidenza di recidiva. Cioè che ritorna nuovamente il prolasso della vescica e della vagina. E in più c'è un'ostruita a defecazione che va nel 40-60% dei casi, dopo questo tipo di intervento fatto ai ginecologi. Allora questa è stata, secondo me, la tecnica da quale vado più orgoglioso. E spiego anche il perché. Professore, creiamo un po' di suspense. Osserviamo la pausa pubblicitaria perché ci segnalano che è così. Allora avete visto che disastro, sarebbe il caso di non arrivarci in quelle condizioni ma può succedere e tranquilli, in questo caso sono sempre le donne però abbiamo visto che hanno questa duplice inconvenienza. Ecco, diciamo così. Il problema è serio però non si devono affrontare due, tre interventi distinti ma con la tecnica del dottor Longo, come vedrete dopo la pubblicità sembra quasi un gioco di prestigio ma è invece una tecnica chirurgica seria. si risolve bene, tutto. Si va proprio all'origine del problema e si garantisce così, in questo caso alla paziente si garantisce una buona soluzione, una buona qualità di vita dopo perché tutto ritorna al suo posto. Ne parleremo meglio. Benissimo. Telefonateci se avete voglia di parlare con il dottor Longo o di chiedere delle spiegazioni particolari. Bene, riprendiamo il dottor Longo, spiegherà adesso bene ancora ci mostrerà la tecnica che è riservata a questi casi diciamo sono femminili, sono quasi esclusivamente casi femminili non sono, sono femminili da quello che abbiamo visto perché l'anatomia porta a queste conseguenze e così risponderemo anche a una signora che ha telefonato da Bologna la signora Fernanda, ottantenne, che ha questo genere di problemi e si chiede se anche alla sua età è possibile effettuare un intervento come la Star che lei ha proposto Sì, perché è un intervento oltretutto che si fa in anestesia epidurale quindi non c'è bisogno di anestesia generale e quindi anche persone che hanno problemi respiratori o cardiopatia possono affrontarlo abbastanza tranquillamente Casomai poi se avanza tempo chiederemo anche i dettagli cioè quanto durano questi interventi che tipo di prassi bisogna fare e il posto operatorio vogliamo proseguire allora per incontrare un'altra sua tecnica originale Abbiamo parlato quindi purtroppo dei risultati insoddisfacenti ottenuti con le tecniche dei ginecologi e evitiamo di approfondire l'argomento ma una cosa importante per esempio è che esportano quasi sempre l'utero Questo ricordo che ne abbiamo già parlato Sì, però io non vorrei essere scambiato o pensare che è una cosa per fare il femminista voglio fare una piccola disquisizione scientifica Le donne per esempio con il prolasso della vescica dell'utero il problema più importante che hanno sono i problemi dell'incontinenza urinaria che vanno dalla nicchetturia cioè alzarsi la notte alla pollachiuria cioè andare frequentemente può essere la stranguria la difficoltà ad andare di corpo e poi c'è l'incontinenza urinaria che può essere da sforzo o anche a riposo e questo chiaramente ha un'incidenza sulla qualità di vita molto importante però nonostante tutto si vendono nel mondo miliardi di pannoline per l'incontinenza urinaria e invece si potrebbe benissimo migliorare la qualità di vita e risolvere il problema con una maniera diciamo anche mininfassiva con tecniche mininfassive Immagino che lei abbia visto quella pubblicità che sta andando adesso delle donne un po' avanti con l'età che appunto hanno incontinenza urinaria ma non vogliono rinunciare alla loro vita sessuale risolvono tutto con i pagnolini in sostanza con gli assorbenti va beh insomma per l'amor del cielo si vive lo stesso però è giusto il concetto che non ci possono essere delle complicanze sedie che la vita sessuale non deve essere interferita da questo però è chiaro che è un bel problema ma con l'aumento della vita media c'è starsene 20 anni 30 anni ma ci sono anche donne a 40 anni anche giovani a 38 che hanno questo problema a 35 anche di meno anche se più raramente che hanno il problema del prolasso oretà perché dicono il parto il prolasso dell'utero dicono il parto però io vi assicuro che ho operato tante donne che non hanno mai partorito per esempio ho operato alcune donne con pregressa anoressia che è una delle patologie che causa frequentemente questo prolasso degli organi pelvici in generale e la cosa più importante che voglio dire è se mi da la diapositiva è questa i ginecologi asportano l'utero sistematicamente qua sempre asportano l'utero fanno una corpusacropesia per cui in ogni caso le donne non potrebbero avere figli io voglio fare una considerazione molto importante che tutti possono capire che è questa questa è la pelvi avanti avanti il filmato ecco questa è tutta la pelvi in cui noi abbiamo la vescica l'utero e il retto dietro l'utero come vede divide la pelvi in due compartimenti c'è la vescica dal sigma e dal retto questo separe insomma questo muro di divisione è molto importante perché è molto importante perché nelle pazienti senza utero se vediamo un'altra diapositiva nelle pazienti senza utero ecco questa vescica vagina il retto ha questa suddivisione nel momento in cui noi asportiamo l'utero la vescica si espande verso il retto e viceversa quindi c'è un'interferenza importante tra evacuazione e defecazione ma la cosa più importante qual è se andiamo avanti che nelle donne soprattutto giovane età diciamo le donne che hanno anche attività sessuale la sportazione dell'utero che se ne dica comporta una parziale denervazione della vagina e quindi si perde parte della sensibilità vaginale che ne dicano perché questo è incontrovertibile perché le terminazioni nervose vanno dal collo poi verso la vagina quindi facendo questa resezione si crea sempre una denervazione e una parziale devascolarizzazione della vescica ma il fatto più importante qual è perché dovremmo asportare l'utero qual è la patologia dell'utero perché noi dovremmo asportare l'utero l'utero non ha nessun problema in quasi nel 100% dei casi l'utero è perfettamente sano prolassa perché si rompono i legamenti che sostengono l'utero quindi non deve essere asportato l'utero devono essere rafforzati i legamenti che hanno fatto prolassare l'utero la vagina la vescica e il retto e questo è il mio concetto di fatto nell'utero e vagina hanno un legamento molto importante che si chiama legamento cardinale che va lateralmente alla parete dell'addome fino alla vagina e al collo dell'utero e decorre lateralmente sull'addome io non ho fatto altro che sostituire questo legamento con una mesh una retina che sostituisce il legamento e che passa esattamente laddove c'è il legamento cardinale questa mesh è assolutamente inerte non crea nessun problema perché il copertale peritoneo che immediatamente la inclobe diventa una parte del corpo normale a questo intervento poi diciamo ci sono delle piccole varianti che a seconda dei casi che la mesh può essere posizionata anteriormente o posteriormente a seconda se prevale il prolassore della vescica o del retto posteriormente e delle volte ma anche se raramente assorgio pure la star quando c'è un grosso retto gelo ecco questa è la tecnica questa si chiama pops quindi di tecnica si chiamano si fissa la mesh sulla fornice vaginale si chiama sulla parete vaginale anteriore o posteriore lei quindi cosa fa dei piccoli forellini ci sono tre forellini da fare due da 0,5 cm e uno da 1 cm e più poi per fissare la mesh altri due laterali piccoli forellini laterali si fissa la mesh quindi lavora in la paroscopia in la paroscopia certo si si fissa la mesh e quindi come vede una volta che la mesh è fissata si passa sotto il peritoneo che è questo che la ricopre e difende quindi l'intestino da qualunque interferenza e tirando su questa mesh noi praticamente risolviamo il prolasso dell'utero della vescica e spesso completamente anche quello del retto quasi sempre completamente ciò ho portato non so se quindi con questa unica manovra con questa unica mesh risolviamo il problema le faccio vedere guarda questo è l'intervento questa è una pinza che entra in sotto peritoneo qui si raggiunge la vagina si prende una branca della mesh le faccio si prende una branca della mesh e si tira fuori viene tirata fuori e poi sotturata sulla parete laterale qui in grandita l'immagine è un centimito e mezzo e si riduce il prolasso sia della vescica che dell'utero e soprattutto il perineo come abbiamo detto prima risale ci sono anche casi diciamo più importanti di questi vedete per esempio in questo caso tirando su vescica c'è tirando sulla mesh prima c'è il prolasso rettale e così via tiriamo su vescica e poi il prolasso rettale si è ridotto completamente ci sono anche dei casi importanti per esempio questo è un prolasso di quarto grado con una displasia io inizialmente avevo delle perplessità a operare questi pazienti poi invece ne ho operato qualcuno e mi sono reso conto che questa displasia c'è questa alterazione della mucosa è dovuto al fatto che sta esposta all'esterno una volta che noi riportiamo e correggiamo questo prolasso e quindi ritorna nella sede con la secrezione di muco e tutto scompare anche la displasia si ritorna a una normalità e questo è assolutamente importante quindi anche nei quarti grade io dopo lo questo vedete in questo caso per esempio associato il prolasso del retto esterno addirittura e il prolasso dell'utero tirando su vedete qual è il risultato alla fine cioè quella è parte iniziale il prolasso del retto perfettamente ridotto vedete e il prolasso altrettanto è il prolasso della vagina e della vescica con una procedura assolutamente mini-invasiva perché risparmiando l'utero ecco questo è ora un'altra vede l'effetto sul perineo in questo caso vediamo prima dell'intervento il perineo iperdisceso il perineo iperdisceso con prolasso qui in questo caso della vescica importante prima dell'intervento e dopo l'intervento risale il perineo e abbiamo risorto completamente il prolasso genitale e le ripeto con un intervento assolutamente mini-invasivo non c'è alcun dubbio ora non sono nemmeno interventi cruenti questi vedo che non c'è veda preposto operativamente si vede qui c'è una risonanza magnetica il fatto importante è che gli organi vengano riportati esattamente nella loro posizione è assolutamente importante e con risultati duraturi quindi sì sì assolutamente abbiamo 1.23% di recidive dopo 10 anni contro abbiamo visto il 35-40% delle tecniche tradizionali e dei ginecologi e questo è un fatto molto importante ho il piacere di poterle dire che ho operato donne in età fertile che hanno avuto gravidanza e figli normalmente quindi mantenersi questo prolasso non è assolutamente necessario non abbiate paura dell'intervento lo possiamo fare in maniera assolutamente mini-invasiva rispettando l'anatomia preservando l'utero perché preservare l'utero qual è il vantaggio quello anatomico che abbiamo detto quello fisiologico che abbiamo detto e diciamolo chiaramente anche quello psicologico perché le donne a mio parere a ragion veduta vivono la isterectomia come una mutilazione fisica allora siccome non è il caso di farlo perché l'utero ripeto è normale soltanto prolassare ha anche questo vantaggio inoltre evitare l'isterectomia evita tutte le complicanze chirurgiche correlate all'isterectomia che sono tante quindi l'intervento si semplifica diventa meno infasivo e più efficace molto molto interessante davvero e se volessimo raffrontare quindi alle altre tecniche quali tradizionali cioè che cosa viene proposto cosa le nostre delle spettatrici di solito si sentono proporre laddove non è entrata in uso la tecnica allora signora guardi il problema è molto semplice c'è un terrore diffuso ad affrontare delle volte l'intervento anche perché c'è una cultura comune che dice va bene c'è le perdite urinarie io pure che vuoi l'età che vuoi invece non è mai un problema d'età e ci possono essere anche altre cause diciamo di ordine neurologico però questa è la causa preeminente allora io dico che correggere dare una qualità di vita darsi una qualità di vita migliore credo che sia un vantaggio senza correre diciamo eccessivi rischi certo sì sì no ma infatti ma anche sul tema dell'asportazione dell'utero che ricordo anche qualche anno fa andava molto in auge l'intervento senza tagli proposto da ginecologi di solito penetrando dalla vagina e asportando l'utero per risolvere appunto non è senza tagli è la isterichetomia transvaginale ecco esatto è l'isterichetomia transvaginale in cui non c'è un taglio sulla cute ma c'è un taglio su tutta la vagina quindi delle volte se l'utero era particolarmente voluminoso si deve fare un'incessione sovra pubblica per asportare l'utero ma è un intervento sì sì ma voglio dire cioè già ricordo in passato che questa sua proposta cioè la spiegazione della sua tecnica del suo intervento aveva creato molto interesse avevamo avuto già in passato molte telefonate per appunto approfondire la tematica perché è chiaro che sta diffondendo per fortuna perché a me fa tanto piacere che lei sia in ottima forma e che quindi continuerà per anni i miei congressi internazionali mi chiamano prevalentemente per questo ah sì perché immagino che abbia destato veramente tanto tanto interesse ecco perché è una tecnica conservativa che è molto importante bene allora abbiamo visto questa cosa e abbiamo implicitamente risposto alla signora Fernanda Bolognese e a tanti altri che ci hanno chiamato poi nell'ultima mezz'ora appunto vedremo vedremo di rispondere alle vostre domande io già ho curiosato e ho visto che ci sono un sacco di problemini che ne dice dottor Longo passiamo adesso al reflusso gastroesofageo qualcuno potrebbe dire ma mi sta uscendo dal seminato perché lei è un come abbiamo detto più volte ripetuto è un esperto di organi pelvici no però qua passiamo a un'altra sede a un altro distretto sono un chirurgo generale specialista in chirurgia generale poi mi sono dedicato a quelle patologie e le dico molto sinceramente la mia filosofia è quella di dedicarmi alle patologie nella quale studiare approfondire le patologie nella quale capisco che le terapie chirurgiche in atto in essere non sono efficaci o non sono diciamo condivisibili per cui vado nei campi dove penso che ci siano ampi margine di miglioramento tutto qua molto giusto ecco quindi passiamo a un'altra patologia molto diffusa anche questa perché anche qui come vedremo se magari poi lei avrà voglia di fare anche un'analisi dei farmaci dei prodotti che vengono di solito consigliati o usati qualcuno non è del tutto innocente insomma però è una patologia diffusa estremamente anche questa qui fastidiosa perché insomma a volte può essere anche dolorosa certamente fastidiosa è complessa comunque complessa sicuramente sì è molto correlata anche con quel discorso che abbiamo fatto prima sull'ansia e lo stress perché anche qui vedremo che ci sono delle interferenze però cos'è il reflusso gastroesofageo è la risalita più frequente della norma del contenuto gastrico nell'esofago siccome il contenuto gastrico normalmente è acido e siccome la mucosa esofagea non è preparata diciamo non è idonea a supportare l'acido può creare delle lesioni esofagee la cosa importante qual è? che questo reflusso acido questo reflusso acido non sempre è acido perché delle volte vi è un reflusso duodeno gastrico per cui la bile passa nello stomaco e quindi risale la bile che non è acida ma è basica ed ha lo stesso effetto ma il reflusso si chiama gastroesofageo ma spesso non si ferma all'esofago cioè sale nelle vie aeree e può provocare laringite faringite broncopolmonite otite problemi dentari problemi alla linqua e così via e spesso tutte queste patologie che hanno un unico origine vengono trattate dai vari specialisti come patologie un'infiammazione della lanince poi vanno dall'otorino che ha un problema all'orecchio e quindi alle trompe di eustachio e fa una soterapia poi va dal gastroenterologo e scura il reflusso gastroesofageo o dagli ed è delle volte una unica patologia che ne crea tante altre cioè il reflusso gastroesofageo può aggredire anche i denti cioè perdere lo smarto dei denti e così via e può aggredire l'apparato diciamo di pertenenza otto l'aringoiatrica e questo bisogna sapere può creare la disfagia la difficoltà a inghiottire tanti disturbi correlati ma poi come diceva lei a volte anche ci sono stati episodi di tosse molto forte sì la tosse che è correlata soprattutto quando vanno a letto le persone che il reflusso è ancora maggiore allora si può creare diciamo ma se noi vediamo per esempio queste sono delle immagini molto molto forti nel senso che vediamo che però c'è una bella infiammazione appunto quello che le dicevo prima c'è già un danno in sostanza e sì si creano dei danni si creano dei danni importanti sì dei danni diciamo istologici anatomici cosa volevo che bisogna capire che noi qui abbiamo il diaframma cioè che divide il torace dalla cavità addominale e qui abbiamo l'esofago e il cosiddetto sfintere esofageo inferiore nell'addome esiste una pressione positiva nel torace c'è una pressione negativa cioè l'addome tenta a spingere in alto sia lo stomaco che l'esofago però siccome c'è il diaframma il giunto gastroesofageo che impedisce questo normalmente questo non succede e allora se vediamo l'altra diapositiva qui c'è uno sfintere che si chiama sfintere esofageo inferiore la contrazione dello stomaco fisiologicamente crea dei piccoli riflussi però sono rari diciamo e quindi sono del tutto normale non creano patologie e invece può succedere come dicevo prima che la mancata apertura del piloro può causare un reflusso di bile e quindi causare un reflusso biliare in esofago c'è un'altra diapositiva e anche qui abbiamo il problema che abbiamo detto prima il sistema nervoso simpatico iper eccitato che cosa comporta una inibizione della digestione cibo tende a restegnare nello stomaco perché non si apre neanche il piloro quindi aumenta l'acidità gastrica non si svuota lo stomaco e appena lo stomaco si contrae non aprendosi il piloro comincia il reflusso e quindi c'è anche qui un problema diciamo correlato all'ansia allo stress molto importante e ovviamente anche all'alimentazione c'è no se mi da quella precedente poi dopo ci arriviamo c'è anche un'inibizione della salivazione che tende a neutralizzare il succo gastro che è molto importante e infatti molti pazienti hanno anche una tachicardia associata perché le ripeto è una patologia molto correlata con l'ansia lo stress e questo infatti a volte si finisce al pronto sto corso pensando un infarto perché il reflusso gastroesofageo può simulare può dare un dolore alla scapola può dare un dolore retrosternale per cui molti pazienti con reflusso delle volte arrivano in cardiologia e il problema invece è il reflusso gastroesofageo avanti quello dice l'alimentazione chiaramente gioca un ruolo molto importante in questa patologia soprattutto l'alimentazione molto grassa i fritti sono fritti eccessivamente bisogna mangiarli chiaramente anche perché sono gustosi però non eccedere diciamo né nella quantità né soprattutto nei cibi che hanno particolare difficoltà a essere diciamo digeriti allora poi ce ne sono alcuni in particolare adesso non spendiamo la trasmissione su quello anche perché abbiamo pochissimo tempo però ci sono dei cibi che possono provocarla se mangiamo per esempio troppi grassi c'è i cibi che richiedono un'acidità gastrica importante un ristagno gastrico importante prima che vengono aggredite no ma so che ci sono dei cibi anche come il cioccolato il caffè il tè sono stimolanti pure del sistema nervoso è vero tra parentesi però sono eccitatori anche per quello quindi adesso non le parliamo ci può essere un danno esofageo chiaramente dal reflusso può essere solo il sintomo ma può esserci un danno serio e poi vedremo di che tipo e quindi può essere con tutto anatomicamente in ordine il reflusso ma c'è una causa frequente che è l'ernia diatale questa ernia diatale possono essere di diversi tipi c'è la paraisofageo la paraisofago c'è una immagine credo successiva successiva questa è qua diciamo la paraisofagea e questa qua è la parte diciamo una delle più complicate ma si allarga anche il diaframma e quindi l'oiato esofageo si distende e quindi il reflusso diventa cronico e di una certa importanza e qui possiamo prendere diciamo delle decisioni siccome so che lei mi farà una domanda ma dopo la pubblicità perché abbiamo veramente un minuto intanto lei finisca il suo concetto no no dico questa è ernia quindi noi abbiamo diciamo un reflusso dovuto a cause anatomiche invece un reflusso funzionale cioè dovuto a problemi funzionanti che può essere un aumento della pressione addominale quindi il metabolismo aumenta molto la pressione addominale oppure altre cause come abbiamo detto di ordine psicosomatico che appunto che nel periodo covid potrebbero far aumentare anche il numero di questi pazienti infatti sono aumentati sì beh no è chiaro la domanda che le devo fare è più di una perché anche per fare una diagnosi corretta non è immagino semplice però riserviamo questi argomenti dopo la pausa pubblicitaria invito anche i nostri telespettatori a concludere il giro delle telefonate se avevate in mente di farlo perché così le raggruppiamo tutte e vediamo di dedicare almeno se non proprio tutti i 30 minuti però almeno una ventina di minuti ai vostri quesiti grazie dell'attenzione eccoci qua allora vi ricordo che l'argomento adesso che affrontiamo però in maniera molto veloce per poter consentire le vostre telefonate è quello del reflusso gastroesofageo peccato perché è un argomento che meriterebbe una trasmissione a sé perché abbiamo visto non solo per la complessità ma soprattutto per i disastri per i danni che può causare a lungo andare però devo dire che la maggior parte delle persone che conosco che ce l'hanno che soffrono di reflusso o acidità o anche reflusso fanno uso ricorrente di farmaci e anche di farmaci a volte pesanti che so che voi non amate che vengano usati per lungo tempo prego professore così lei sarà più chiaro degli esami gli esami da fare sono la piacca metria esofagea per misurare diciamo l'entità del reflusso nel corso della giornata e quindi misuriamo fino a dove sono sempre esami un po' invasili che bisogna sempre no no vabbè un piccolo sondino insomma non è il caso assoluto non è affatto un esame e poi chiaramente la gastroscopia la gastroscopia ci serve per fare la diagnosi delle lesioni esofagee perché ci sono delle lesioni esofagee se c'è qualche altra immagine forse forse andiamo avanti un po' in velocità ah questi sono i farmici allora forse non avevamo caricati per esempio ci sono delle esofagite che purtroppo sono predisponenti per il carcinoma per il carcinoma esofagee allora in questo l'esofago di Barrett giusto per citarlo che può essere predisponente per il carcinoma in quel caso non si può assolutamente non si deve evitare di fare dei follow up continui ma soprattutto se è possibile fare la terapia per porre fine al problema del reflusso per quanto riguarda i farmaci personalmente se funzionano credo che i procinetici che sono quelli che fanno svuotare lo stomaco e quindi diminuiscono diciamo meccanicamente l'insulto sono diciamo quello che preferisco come prima prescrizione comunque gli antiacidi tipo la citrossidina il maloc se questi farmaci possono anche essere adoperati in alcuni pazienti occasionalmente o anche se riescono diciamo a neutralizzare un po' l'iperacidità può andare ci sono altri farmaci invece per esempio gli entereflussanti e il gavis questo crea si deposita superiormente sul contenuto gastrico e quindi anche se c'è reflusso va il gavis con diciamo così in esofago e quindi protegge l'esofago esatto crea una specie di film sì poi questo fu il primo glorioso farmaco la ranitidina diciamo che inibiva la secrezione acida e poi ci sono i più famosi i più usati che sono gli inibitori della pompa protonica che hanno dato una svolta enorme a questo tipo di patologie cioè nel senso che hanno un'efficacia molto importante qual è il punto? il punto è l'abuso queste persone devono capire che gli inibitori della pompa protonica non vanno prese tutti i giorni per tutto l'anno queste farmaci vanno usate periodicamente nei periodi di acuzie e soprattutto bisogna curare la causa ripeto del reflusso che spesso è l'ansia e lo stress o l'alimentazione o l'obesità o questi diciamo soprattutto questi fattori questi fattori di rischio e quindi però se possono essere presi diciamo per periodi perché provo con una gastrectasia questi farmaci a lungo andare provo con una distensione gastrica e poi i problemi peggiorano e allora giusto per queste sono quanto è la spesa nazionale per farmaci anti-refluss e questo dicevo all'esofago di Barrett ci sono diciamo in questo tipo di classificazione che è quella che normalmente usiamo che vanno dall'eritema diciamo alla ulcera alle lesioni sclero cicatriziale all'esofago di Barrett in questi casi secondo me l'intervento va fatto è necessario la prossima così spieghiamo un pochettino poi ci mostra anche l'intervento eccola qua questo è l'intervento uno degli interventi tradizionali che è l'intervento secondo DOR in pratica si prende il fondo gastrico si attorciglia attorno all'esofago e si steno si chiude si comprime l'esofago qual è il problema che eliminando che qua c'è la curva normale dello stomaco che si chiama grande curvatura che protegge dal reflusso questa viene a mancare se questo si stringe troppo il paziente cura il reflusso ma la disfaggia cioè non riesce diciamo a inghiottire bene se invece non si stringe molto è il reflusso e quindi questa è un'altra tecnica ce n'è un'altra che la valvola è posteriore ma è sempre la grande curva che viene portata insomma questi interventi non hanno avuto un grande successo è questo il motivo per cui è diminuita molto diciamo la terapia chirurgica per questo tipo di patologia allora molto brevemente le spiego se mi traccio qual è il mio intervento come si evita il reflusso cioè come si evita perché noi garantiamo un passaggio quindi quello del cibo ed evitiamo il ritorno dove possiamo andare a trovare uno schema del genere io ho pensato che lo schema ideale lo trovo in natura ed è il cuore se noi abbiamo le nostre valvole è giusto diciamo la valvola bicuspide o tricuspide che consentono al sangue dall'atrio di andare nel ventricolo ma impediscono che il sangue risalga nell'acqua come si può creare questa valvola nello stomaco e ho pensato di crearla nella seguente maniera vede facendo una piega sullo stomaco sulla parete anteriore dello stomaco mi parte sto filmato praticamente creando questa valvola in acosi questa è la sofo questa è lo stomaco quindi il cibo impatta su questa valvola il reflusso quindi impedendo il reflusso possiamo vedere un'altra immagine è questa che si fa sulla parete anteriore dello stomaco e che succede che quando lo stomaco è semivuoto che è il momento in cui il reflusso è più pericoloso cioè quando lo stomaco è pieno questa valvola va appoggiare posteriormente sulla parete posteriormente e quindi impedisce però se il paziente ha uno stomaco molto disteso e deve ruttare per esempio o deve vomitare può vomitare perché questa valvola non raggiunge non occlude completamente al stomaco disteso e quindi ho fatto questa tecnica che si chiama valvola unidirezionale gastrica secondo prende il mio nome avanti secondo lungo sì vede questa è la valvola con vista in retroversione endoscopia vede questa qua e si vede qui ci dovrebbe essere l'esofago vede che viene coperto da questa valvola che va a chiudere ma lei come effetto a questo intervento in laparoscopia in laparoscopia sempre sì qui è per esempio su uno stomaco le faccio vedere il funzionamento vede pigiando l'acqua pigiando lo stomaco vede questa valvola qui lo ripete per favore ecco chiude l'esofago l'animazione è un filmato vero e impedisce il reflusso praticamente questo è l'esofago impedisce il reflusso pur spingendo essendo lo stomaco pieno di acqua perché praticamente tende a chiudere esattamente quello che fanno le valvole cardiache ora questo intervento io sono veramente molto soddisfatto orgoglioso immagino anche molto soddisfatto le devo dire perché abbiamo una remissione completa di sintomo nell'88% una remissione parziale nell'8% miglioramenti non significativi nel 4% probabilmente perché magari ho sbagliato l'indicazione e complicanze diciamo abbiamo delle volte un zinchiozzo post-operatorio nel 10% della durata di una settimana e tutto qui non abbiamo avuto mai complicanze serie importanti con questo tipo di intervento e io lo ritengo assolutamente soddisfacente e insomma si sta allargando sì sì molto ecco sì forse è il caso intanto che aspettiamo le prime telefonate quindi do anche implicitamente il segnale alla regia di metterci in contatto con qualche d'uno quindi questo è il discorso che ci riporta all'inizio un pizzico di genialità tipica di noi italiani che abbiamo questo estro non siamo solo noi italiani insomma poi quello che interessa alla gente è sapere quanto sono diffuse davvero realmente le sue tecniche perché questo consentirà a molti chiederanno magari di venire operare tra parentesi lei in questo momento ci ha spiegato che in Lombardia perché è zona rossa sono sospesi tutti gli interventi più urgenti però lei continua a operare a Roma giusto e a Palermo che è la sua città ma si stanno diffondendo bene le sue tecniche cioè ci sono ho fatto in questo periodo di lockdown 26 videoconferenze con l'estero bravo perfetto e quindi forse magari si riescono a catturare più spettatori diciamo più partecipanti in via web che non di presenza adesso per esempio domani avrò una conferenza dopo domani con la Cina con Shanghai e dove non possiamo andare ma lì ci sono normalmente 2.000 2.500 partecipanti bene quindi sicuramente penso che tra qualche anno queste saranno le tecniche di lezione e sono difficili da imparare cioè richiedono un apprendimento guardi il vantaggio è che si devono capire soprattutto le indicazioni benissimo perché ci sono persone per esempio che fanno la tecnica star e dicono guarda a me in alcuni casi non mi funziona non mi è funzionato bene perché perché sono pazienti che hanno associato il prolasso dell'utero e della vescica come abbiamo visto prolasso rettale secondari visitano le pazienti in decubito laterale sinistro sul fianco sinistro invece lo dico che tutte le donne anche se dico che hanno solo l'emorroide vanno visitate in posizione ginecologica va valutato il prolasso rettale se ci è associato un prolasso della vescica e dell'utero e questo è assolutamente indispensabile e io spero che nel futuro nasca uno specialista unico per tutte e tre gli organi pelvici addirittura sì perché no abbiamo capito che è quello che potrebbe portare i risultati migliori unico pelvico unico pelvico insomma allora passiamo alla prima telefonata e vediamo con chi siamo in linea pronto? pronto buonasera buonasera io mi chiamo Daniela chiamo da Bologna benvenuta signora Daniela prego buonasera volevo chiedere al professore io ho avuto un intervento di star nel 2011 e poi dopo dopo cinque anni il problema si è ripresentato e ho fatto l'allongo solo che mi dice il medico che mi ha operata che la cicatrice purtroppo si è ristretta molto ho difficoltà ad evacuarlo molto insomma faccio molta fatica e adesso appunto dicevo al mio medico di fare dei taglietti in verticale sulla cicatrice per poter dilatare un po' di più è una cosa che non è che mi fa molto piacere perché ho sofferto il penese all'interno fare quell'intervento e quindi solo che adesso mi ritrovo che ho un forte sanguinamento sempre prendo farmaci per le emorragie prendo i farmaci per mantenere le fessi liquide bere molto insomma tutta una serie di cose che mi mettono la vita povera Daniela allora la signora Daniela in teoria dovrebbe aver fatto le sue tecniche sia la star sia la luna se è stata operata di star come primo intervento non ho capito come poi l'abbiano potuto fare una staple da un opexi con un solo strumento e che quindi ovviamente già in un retto con cicatrice da star ha provocato la stenos a una star se proprio era necessario rifarla andava rifatta una star secondo il mio punto di vista non voglio sapere altro ma in ogni caso se c'è una stenos la prima cosa da fare è correggere la stenos e risolve insomma i suoi problemi quindi l'indicazione del suo medico poi non capisco perché dice che ha sofferto molto la signora ha sofferto molto di che? ha detto che è stato signora è ancora in linea Daniela sì sono in linea sono in linea ha detto che è stato molto doloroso ha sofferto molto in questo senso mi scusi sì 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 un dolore atroce proprio ho dovuto fare dopo l'intervento dopo l'intervento dopo pochi giorni dall'intervento dopo questo ultimo intervento esatto sì allora molto probabilmente anche perché c'è la stenos forse hanno fatto una struttura troppo bassa signora lei se la stenos se la tocca col dito sì sì si riesce a toccarla allora signora hanno fatto mi dispiace dirlo un errore quello di fare una struttura bassa cioè tipo asportare le morroide e non è questa assolutamente la mia tecnica quindi non pare io so che ho sofferto tantissimo proprio sì vabbè signora lei ha sofferto tantissimo non so quanto ha sofferto e che intende lei per soffrire tantissimo ha sospeso le sue attività lavorative ah sì 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 perché facevo due o tre ore con una puntura di voltare e poi dovevo subito farmi l'altra e per parecchi giorni ci ha fatto una struttura bassa signora c'è un altro problema che si può verificare se lei ha per esempio un'ipertona anale questo può diciamo incentivare l'incidenza della della stenosi e lei per esempio ha mai fatto uso di angiolitici signora no no lei dorme la notte sì 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 dormo sì sì anche proprio al mattino non ho parecchio quindi diciamo la notte non ha dolore durante il giorno lavora sì 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 io ho sempre fatto una cosa e allora se c'è questo dolore altro oggi come fa a dormire la notte a lavorare il giorno c'ha un po' no subito dopo l'intervento io lo faccio nel 2017 certo il dolore l'ha avuto dopo l'intervento nel scusi abbiamo detto nel 2016 adesso c'ha il sanguinamento adesso ha il sanguinamento e vabbè signora si deve curare la stenosi adesso ho il sanguinamento e quando vado devo acquare ho il sanguinamento è ovvio certo perché c'è soprattutto le feci dure c'è una lagerazione molto probabilmente si incarcera qualche po' di prolasso residuo sulla struttura stenotica e quindi sanguina ma perché non si opera subito sotto l'intervento un'altra volta sotto i ferri sotto i ferri signora se c'è una stenose se dice che c'è questo problema è un intervento banale la correzione della stenose non è un intervento complesso dai diamole un po' di coraggio alla signora Daniela vabbè però mi pare di aver capito morale della favola io le faccio tanti auguri signora mi pare di aver capito che qui non possiamo tanto imputare la colpa alla tecnica del professore se è stata usata la sua tecnica ma forse ha non voglio dire un'imperizia ma comunque qualche piccolo errore insomma è difficile fare con me cioè mi fa piacere che che l'intervento non l'ha fatto lei no 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 che anche in diretta i telespettatori capiscono che accettiamo tutte le telefonate ah beh sì noi non variamo su questo per prima abbiamo addirittura una paziente che lamenta diciamo che non è soddisfatta dopo quello che abbiamo detto d'accordo sì va bene signora davvero tanti 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 auguri perché adesso abbiamo un po' scherzato però il suo problema deve essere risolto vediamo di passare a un'altra telefonata vediamo se c'è qualche d'una qui possiamo rispondere allora anche questa qui Marzia Davarese non riesce ad evacuare correttamente continuano a prescrivere i lassativi ma capisce che non le servono e non si sente perfettamente libera allora quali esami deve fare per capire che tipo di problema ha infatti questa signora Marzia Maria non Marzia non voleva neanche essere richiamata voleva la domanda così deve fare una visita magari con qualche specialista e se vuole evitare la visita vuole prima capirlo lei fare una cinedefecografia una defecografia che vogliamo ricordare se ha un prolasso interno e un rettogelo ed è detto così io ricordo che gli ho sempre detto ma non è imbarazzante dottore dover evacuare in una cabina non deve evacuare in una cabina mettono del bar nel retto poi c'è un gabinetto radiologico assolutamente schermato quindi non deve mettere il bario che è introdotto e quindi fa un filmino radiologico va bene quindi si può fare si può chiedere è prescrivibile cioè anche col sistema sanitario benissimo allora sono un po' in appressione perché vedo che non riusciamo ad avere il collegamento invece di telefonate ne abbiamo tante ad esempio la signora Donatella dalla provincia di Pescara ha avuto un prolasso dell'ano ed è stata operata ma dopo 4-5 anni dall'intervento sono riapparsi ancora i problemi perdite che la costringono ad usare assorbenti e questo è un disagio lei dice che cosa dovrebbe fare dovrebbe farsi rioperare soprattutto non tramite l'intestino ci sono altre soluzioni ora qualche cosa non è stato scritto correttamente però lei ha inquadrato l'ha definito prolasso dell'ano sì è molto probabilmente un prolasso emorroidario esterno e quindi consiglierei di fare l'intervento perché abbiamo detto ha associato un prolasso interno del retto quindi la signora dovrebbe fare una defecografia per valutare quindi un intervento è quale delle sue tecniche se è solo il prolasso del retto o una star se invece ha associato pure il prolasso della vescica dell'utero e così via una pops una pops allora sono un po' in apprezzione non riusciamo a collegarci niente vediamo anche la signora Emma dava resa al suo bel problema ha un prolasso all'utero e vorrebbe informazioni sulle tecniche operatorie io spero che ne abbiamo parlato che abbia visto e che quindi la risposta sia stata data così ora abbiamo invece un telespettatore in linea pronto? buonasera 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 allora io le passo la mia amica che ha un problema non vuol parlare parlo io vabbè perché è timida e buonasera e chi ha avuto quanto tempo fa? ma sono anni che sono tipo 4 o 5 anni 4 o 5 anni fa ha avuto un prolasso perché gli sono uscite le emorroidi in maniera abbastanza evidente con grumi grappoli con grappoli di sangue e dopodiché è rientrato da solo che cosa ha fatto la mia amica Sara ha messo il ghiaccio delle pomate eccetera adesso ci chiedevamo che cosa poteva fare perché secondo me non è un problema da prendere sotto gamba visto che è giovane a 35 anni magari vorrà avere dei figli e la cosa si potrà ripetere quindi la mia domanda precisa è se si doveva intervenire e come e visto che abbiamo ascoltato la trasmissione il dottore mi sembra abbastanza esplicativo su questi problemi è chiaro e diretto allora la signora deve fare una visita accurata perché certamente ha un prolasso rettale certamente si è avuto già un prolasso emorroidario esterno e non so se è rientrato se sono formate all'esterno delle piccole pliche delle cosiddette marische o skin text insomma e poi bisogna valutare se il prolasso rettale è isolato oppure se è associato al prolasso di altri organi pelvici e quindi fare l'intervento appropriato però una signora di 35 anni credo che sarebbe il caso di provvedere al più presto anche perché credo che abbia stitichezza non so confermate? ho trovato coraggio sono Sara piacere eccola eccola qua 35 anni è veramente giovane quindi dovrà affrontare delle maternità chiedeva il professor Longo se ha stitichezza se soffre di stipsi allora le dirò io ho sempre evacuato ho sempre evacuato dalle 3-4 volte al giorno per tantissimi anni senza avere mai problemi da quando ho questo prolasso moroidale ammetto che faccio fatica e mi aiuto con l'autostimolazione allora guardi quella che dice prima lei di andare 3-4 volte di corpo l'abbiamo detto ne abbiamo ribadito si chiama defecazione frazionata e normalmente può essere correlata a un prolasso o anche una disinergia pelvica o un ipertono anale se lei è una persona anche ansiosa io le consiglio di farsi visitare adeguatamente e pigliare provvedimenti perché certamente è una sindrome dell'ostruita defecazione che le può causare diciamo altri problemi io ho già intenzione di venire da trovarla infatti adesso ho segnato il suo nome e cognome e tutto quanto l'unica cosa le dico ho fatto una colonoscopia se lei ha 35 anni non è l'esame più importante che deve fare la colonoscopia eventualmente si potrà fare successivamente la colonoscopia se non ha familiarità per i carcinomi del colon e del retto insomma se non c'è familiare insomma che hanno sofferto di questa patologia si può postergare la colonoscopia bisogna capire i sintomi bisogna valutare esattamente l'entità del professor rettale e se c'è associato il professor di altri organi va bene facciamo tanti auguri anche a questa giovane telespettatrice che ha trovato il coraggio come vi dicevo all'inizio sono cose assolutamente naturali ma che sono legate un po' anche al nostro pudore però dobbiamo anche considerare che di mezzo c'è la salute e quindi vi ringrazio per aver avuto interesse a questa trasmissione e ringrazio quelli che hanno scritto che hanno telefonato parlandoci proprio dei loro problemi anche un telespettatore maschio abbiamo avuto da macerata il signor Domenico che anche lui poverino ha feci dure quando va in bagno e trova tracce di sangue gli capita di vederne e poi dice che gli esce una pallina dall'ano sarà quelle cose che abbiamo mostrato insomma la pallina può essere un nodule emorroidario come può essere invece un polipo o uno pseudopolipo o una papilla ipertrovica adesso non impressioniamo lo poverino no ma si deve controllare scusi non gli sto dicendo guardi sta morendo sto dicendo che deve controllare di che cosa si tratta bene bene quindi si deve far vedere anche lui abbiamo solo due minuti quindi li lascio tutti a lei professore le altre telefonate più o meno ripetevano le stesse cose o in tutta Italia perché qui abbiamo toccato un po' tutta la geografia in tutta Italia il problema è sempre quello beh io mi sento di fare una raccomandazione quando ho cercato uno specialista informatevi sulla diciamo sulla riviste scientifiche sui personaggi oggi purtroppo internet governa e dice chi è più bravo chi è il più assino e così via anzi dice sempre chi è il più il più bravo non vi datevi assolutamente di queste cose non vi datevi dei come si chiamano social quando parlano i social sì 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 perché lì è soprattutto è una regione dove pullono pullono molte persone con qualche problema insomma di tipo psichiatrico mi permetto di dire e quindi rivolgetevi dall'inizio sin dall'inizio quando avete qualche patologia agli specialisti veramente competenti abbiamo capito il messaggio cioè a volte funziona anche il passaparola qualche cosa qualche contributo magari possiamo darlo anche noi con le nostre trasmissioni se vi è sembrato convincente io so che nelle trasmissioni passate ha sempre destato molto interesse e anche devo dire da parte di medici non solo telespettatori hanno intuito davvero la valenza del professor Lungo che io saluto ringrazio lo lascio quindi molto volentieri alle sue attività adesso di conferenze online e spero davvero che le sue tecniche ma soprattutto la diciamo la sua capacità di valutare e di inquadrare bene questi problemi ma grazie a Dio sono molto diffuse in tutto il mondo bene ecco poi come abbiamo detto all'inizio mi permetto di dire che sono è il più citato nei testi mi permetto di dire appunto che sono il coloprochettologo più citato nella letteratura scientifica ma questo è vero per cui voglio dire se ci sono suoi colleghi possono andare a vedere mi dispiace vandarmene da solo però è così se autore di tecniche e anche di macchinari come abbiamo di strumentazione come abbiamo dimostrato io sono veramente molto contenta di poter lavorare di questi tempi è un vero miracolo capisco l'ansia delle altre persone stiamo calmi manteniamo la calma dritta anche però l'antenna stiamo attenti l'attenzione a quello che ci viene detto a quello che ci viene fatto ma stiamo sereni perché sicuramente dopo tutti i temporali ritorna il sereno quindi confidiamo evitiamo io mi sono già pre-immunita però evitiamo di accedere evitiamo di accedere un filosofo evitiamo di accedere nello stressare le persone e ricordiamoci che lo stress è una cosa molto importante perché abbassa le difese immunitarie pinta anche la stampa 24 ore al giorno sempre di covid di covid di covid basta stasera abbiamo parlato di ammorologi è sicuro una cosa e ve lo prometto che questo passerà chiudiamo così allora grazie ancora per l'attenzione noi se tutto va bene si va in onda sempre in diretta fra sette giorni poi ci tengo anche a ricordarvi i miei appuntamenti del venerdì non sono sempre in onda io però almeno due volte al mese mi trovate quindi se volete seguiteci anche lì grazie ancora il professore mette la mascherina io la vado a rintracciare la mia grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti